Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo sul sedicesimo episodio Non lo so, mi sto confondendo signori, perché se li sto registrando un po' a seguire e quindi non riesco più bene bene a tenere il conto Signori, prima di partire il video vi ringrazio sempre per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie Ovviamente ci sono video che vanno di più, video che vanno di meno, ma va bene, l'importante è che vanno, l'importante è andare, l'importante è andare Cosa facciamo in questo video, signori? Nello scorso, nel video di ieri abbiamo preparato il tutto per andare in esplorazione, signori E oggi andremo in esplorazione, però io per sì e per no, un po' altri tre pezzettini di grano, li ce li portiamo 3, 4, 5 e 6, dai, dai, 6 bei pezzettini di grano che non daremo alle mucche ma ci faremo dei panini da portarci dietro Così per avere altro cibo, nell'eventualità dovesse scarseggiare un po' così, nell'eventualità dovesse scarseggiare un po' così Nell'eventualità dovesse scarseggiare un po' così, avremo il cibo da poter mangiare Allora, mettiamo i semineri, li mettiamo qua, questi tre ce li prepariamo Così facciamo altri due paninozzi e siamo abbastanza coperti, penso, no? Diciamo che... e dai, ma perché so, perché so scemo? Ok, riesci a metterlo qua? Perfetto, ci abbiamo fatto Dopo tanti sacrifici, ci abbiamo fatto Abbiamo 18 pezzi di carne, 4 panini, un crafting table, un letto, il piccone di diamante ce lo portiamo perché può tornare utile Ferro in caso di bisogno, però aspettate un attimo, fermi tutti Io ho dei pantaloncini di oro, degli stivaletti di oro che non mi servono a nulla, segnale Perché noi non andremo nel nether, quindi questi li rimettiamo qui, grazie, gentilissimi E io gli stivaletti di ferro non me li ero fatti No, bene, quindi facciamoci gli stivaletti di ferro, quindi ottimo Quindi andiamo a perdere un poco di ferro, poi vabbè, l'importante è averne abbastanza per poter farci un'altra spada e un altro piccone Che già sarebbe utile alla situazione Ok, siamo abbastanza coperti, penso ad avere tutto per affrontare l'avventura Sta calando la notte, se non sbaglio Il sole quasi sta scendendo, sì, quindi io direi, signori, facciamo un breve taglio Ci rivediamo appena il sole è alto Io in questo frangente mi taglio quell'albero, mi levo con la canna di zucchero Faccio ridurre le mucche e ci vediamo appena, siamo pronti alla spedizione, signori Decisamente sì, decisamente sì Ok, signori, ci siamo, siamo pronti, il sole è alto E noi siamo pronti a partire per questa spedizione, signori Con calma e stanco e freddo Allora, come faremo? Non lo so, signori Allora, di là ci siamo andati l'altra volta Abbiamo visto che comunque c'erano le mangrove Continuava la palude Io l'altro giorno sono andato di qua E sono andato in fondo praticamente a questa sorta di isola dove siamo noi Ciao pecorella Sorta di isola dove siamo noi Intanto ho trovato degli alberi diversi Quindi che ci porteremo a casa Che mancano nel nostro Che non abbiamo proprio questo tipo di legno Quindi li recuperiamo assieme Non li ho recuperati da solo Là c'è un ragno che io quasi quasi ammazzerei Vediamo se mi dà le stringhe Non so perché mi stia attaccato Forse appena visto la pistola no Mi dà sempre gli occhi del ragno Che cazzo a me devo fare degli occhi del ragno Mi servono le stringhe Devo farmi un arco, signori Anche se non abbiamo palesemente le frecce Però mi devo fare un arco Allora Qua ci sono pecorelle Funghi Ci sono questi funghi enormi Che non servono a niente Tra l'altro a me i funghi manco piacciono, signori Quindi buono a sapersi Oh, ok Allora la nostra isoletta, signori Finisce così praticamente Qui c'è sempre la rana peppe Che ci insegue Qua ci sono le I polli Vediamo se riusciamo a ottenere Per caso qualche altro uovo Polletto Ok Uno ce l'ha appena dato così in faccia E niente Allora, signori Da questa parte, vedete Non c'è assolutamente nulla Cioè continua la palude Non vedo niente di particolare A parte uno scheletro lì sotto E E un enderman Che cammina Solo un albero Che non guarderemo Non guarderemo Non guarderemo Perché non è Non è decisamente il caso Allora Abbiamo questi alberi di qua Che noi non abbiamo ancora Raccolto nemmeno una volta Ed è altro legno diverso Che ci può far fare Sempre diversità di colore Nel nostro mondo Quindi recuperiamo quest'albero Speriamo che ci dia Almeno Un Un sapling Sarebbe buono Un alberello piccolo Sarebbe buona come cosa Se recuperiamo ne almeno Distruggiamo almeno due Vediamo se riusciamo a ottenere Qualche alberello Dopodiché Andremo In questa direzione In cui sono messo ora Signori Che non so che direzione sia Non so neanche in che direzione È casa nostra Se è nord Sud Ovest Est Però va bene Andiamo precisamente Di là Perché superata questa montagna Di là forse Inizia Un Qualcosa di interessante Polletti Mi cagate qualche altro uovo Gentilmente Ah la ce n'è uno La ce n'è uno Mucca lasciami stare l'uovo Che a questo Dopo gli ha io Ok Siamo a due uova Riuscissimo a pigliarne qualcuno in più Non sarebbe male Non sarebbe decisamente male Vediamo Se riusciamo a ottenere Qualche altro Alberello No Non mi servono gli stick Mi servono gli alberelli Zio Mi servono gli alberelli Ma si Disboschiamo tutto Signori Ma chi se ne frega Il nostro Questa foresta No Ci faremo mai stare a vivere da questa parte E no E allora disboschiamo tutto Come se non ci fossero domani Dai così Mi ho regolato 18 Abeti Ah uno Uno ce l'abbiamo Un alberello di abete Ce l'abbiamo Due Due Ok Ottimo Ottimo Nel frattempo sto cercando di vedere Se riusciamo a regolare Qualche altro uovo Ma qua I polli sono un poco Tirchi Come si dice dalle mie parti Niente Non Non gli interessa Non mi vogliono droppare nulla Là c'è uno scheletro Che lasceremo volentieri Stare Speriamo non ci insegui Anche se lo scheletro Mi potrebbe dare buon mille Non sarebbe male come cosa Ma non c'ho voglia Di uno scontro a fuoco Con uno scheletro Me l'hai droppato Qualche altro alberello? Da cazzo Non erano gli alberelli Mi ho perso già mezza giornata Solo per Solo per cercare di recuperare Alberelli Che non mi serviranno a nulla Però Dico Dico taco Tacotico Mi dai qualche altro alberello Magari due Magari qualcuno Niente Proprio la tirchiaggine fatta a videogioco Niente da fare Niente da fare Non Non gli interessa Là c'è un altro E siamo a tre Ok Magari un altro Magari quattro Tanto per dire Sono tre Tanto per dire Dai Te ne do un altro Voglio essere buono Te ne do quattro Niente Non gli interessa Niente da fare Ma come ero perso Un pezzo di legno Come ho fatto a perdermi Questo pezzettino di legno Non si sa Anche là mi sono perso Un pezzettino di legno Ottimo Bene Ok Mi sono perso Un pezzettino di legno Sembra che me ne rendevo conto Va bene Niente Non Non gli interessa Non vorrei collaborare Accontentiamoci Dei tre Ramoscelli Che ci ha dato Dei tre Alberelli Che ci sono stati dati E Stoppiti Nella tristezza più totale Continuiamo la nostra avventura Tra l'altro Già abbiamo fame Ottimo Allora 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 Saliamo su Levati Maialuzzo Maialuzzo Levati Dammi la pala Dai così Allora Andiamo in questa direzione Di qua signori Che secondo me E c'è qualcosa di interessante Allora Ok Vedete Ho superato la montagna C'è questa altra zona Di esplorazione E noi andremo Proprio lì signori L'obiettivo è Riuscire a A trovare Un villaggio Riuscissimo a trovare Un villaggio Sarebbe tanta roba Oh guarda Che carino Quest'albero con i fiorellini Se non ricordo male Indica qualcosa di importante Che forse sotto c'è una Una di quelle Di quelle oasi Può essere Se non ricordo male Questi alberi Indicano questo Allora Leviamo tutto ciò Che non serve Mettere la crafting table Ok Vabbè dai Ce la facciamo a nuoto Facciamo prima Ce la facciamo a nuoto Se no Fai albero Fai barca Metti barca Leva barca Ci perdiamo di casa Ok Io ho le coordinate Di casa nostra Signori Quindi non c'è il rischio Che ci perdiamo In maniera brutta Con calma E sangue freddo Andiamo in esplorazione Cosa stiamo cercando? Ma niente Effettivamente di particolare Di particolare in Inter Riuscissimo a trovare Il villaggio Tanta roba Riuscissimo a trovare Qualche caverna Da esplorare Tanta roba Tutto quello che viene Noi ce lo prendiamo Molto volentieri Allora L'importante è trovare qualcosa Perché mi sembra Che un attimino Che siamo Siamo messi in maluccio Siamo messi in maluccio De Allora Ci sono Manca animali Ci stanno Bene Dai 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 Un fiorino giallo Che non ci serve a niente Di qua penso ci sia Il mare Più totale Sì Niente da fare Là ci sono altre pecore Continuiamo a esplorare Continuiamo a esplorare Qualcosa la troveremo Non credo che Siamo circondati Dal nulla cosmico Le api Oh Abbiamo trovato le api Ci possiamo fare qualcosa Con le api No Esplicemente no Ok Di qua Si scende Ma no Niente Niente di interessante Niente di interessante Continuiamo L'esplorazione Le api Ciao Apetta Ciao Apetta Aspetta Fammi fare Stai qui con me Dove sei Apetta Volevo fare Vuoi un pezzettino Di panino Apetta Ragazzi Sono entrato Dentro Volevo approfittarne E invece No E' timida Ma sei stronza Però Non sei timida Sei proprio stronza Nell'anima Sei proprio stronza Dove stai Guarda quanto tempo Mi fa perdere Apetta 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 Allora Noi venivamo Di là Giusto Si Perché ho visto L'alveare Quanta betulla c'è Qui signori Una foresta di betulla Proprio Quando dici Ho bisogno di betulla Si Qua c'è tutta la betulla Che vuoi Continuiamo l'esplorazione Signori Piano 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 Direi spada alla mano Perché non si sa mai Cosa possiamo Incontrare Ma finora Non stiamo incontrando Proprio nulla Di nulla Il nulla Più totale Siamo proprio Fuori dalla nostra paluta Oh Ok Ok Un vecchio portale Un vecchio portale Che è interessante Già Già è interessante Già è interessante Con un grande Con una grande zona Da 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 ricercare Signori Allora direi che questa come copertura Va bene Le rovine Abbiamo trovato le rovine Come copertura ci sta La faccio perché mi piace Vediamo cosa c'è in questa cassa Dietro di noi Ok Nella selce Che sinceramente a casa ci manca Accendini ce le abbiamo Un piccone d'oro Con un ripristino Che per la portina A casa E delle carote d'oro Importantissime Queste sono importanti Importanti L'unica cosa che ci pigliamo Che ci pigliamo in più di qua È il blocco d'oro Che anche questo È molto importante Zio Se però Me lo devi fare a PA Zio Me lo devi fare a PA Il blocco d'oro Ok Abbiamo preso il blocco d'oro Signori L'obiettivo era quello Di trovare Un Un villaggio Ma se di qua possiamo scendere Partire con un'avventura In grotta Io direi di andare Signori Senza indugio Senza Senza paura L'armatura Ce l'abbiamo Io direi Perché no Perché no Signori Perché no Guardate cosa c'è qui Qualcosa la troviamo Dai Qualcosa secondo me La troviamo Intanto troviamo il carbone Che già è tanta roba Carbone E lo accettiamo In maniera Importantissima Le torce le metto Nella mano destra Nella mano sinistra Così possiamo Tranquillamente Tranquillamente Questo è altro tipo di roccia Sì Non è vero Sì Ma dovremmo averla già scavata Quando proviamo a fare i tunnel Signori Il carbone Lo prendo Il carbone lo prendo Perché ci serve come il pane Tampoco starà calando anche la notte Ma noi ci infiliamo in grotta E non ci frega di nulla Non sappiamo di preciso Dove siamo Però L'importante è fare Un'ambassa di risorse Ho visto che c'è dell'altro carbone Che recuperiamo pure Signori Odiatemi quanto volete Perché sto perdendo tempo A prendere il carbone Ma fa parte del gioco Signori Fa parte del gioco Ci sono i video in cui costruiamo I video in cui esploriamo I video in cui esploriamo E recuperiamo risorse Ovviamente Non sarà tutto qui Divideremo questa avventura Forse anche in più episodi Però Va bene Va bene Va bene Vediamo un attimino Di riuscire a portare a casa Il più possibile Intanto di carbone Le stiamo portando a casa In maniera pesante E di questo siamo soddisfattissimi Allora Avremo grossi problemi Per ritrovare la strada di casa Sì Ci interessa? No Allora 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 c'è quel carbone Ma lo lasciamo lì Non ho intenzione Di fare Pilaroni inutili Mi sa che però Sta caverna Finisce qua Mi sa che ci sta Pia Ci sta Pia Per i fondelli Sta grotta Allora Calma Calma Altro carbone lì Altro carbone lì Qua c'è del coso Mi servirebbe Zio Mi servirebbe anche Del ferro Si può avere del ferro? Così Lo chiedo gentilmente Si può avere del ferro? Non sarebbe male Come 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 aiuto A questa serie Un po' di ferro Sai Anche perché abbiamo solamente 9 pezzettini Signori Allora io In un video Di uno youtuber famoso Ho visto Come si fa La La Ciao creeper Benvenuto in questo video Anche a te Vuoi morire? Si Bene Puoi decidere O muori per la mia spada O muori per la tua esplosione Secondo me Vuoi morire per la mia spada Si Si Mi sembri deciso Per morire con la mia spada E sei morto con la mia spada Allora Torcetta qui Ma sono scemo L'ho messa sul carbone Che devo recuperare Allora Di là si scende Di qua In via E' enorme Signori E' decisamente enorme E' calata la notte Ma di questa parte Mi sa che non c'è nulla Completamente Di qua usciamo Di qua usciamo E non è il nostro Nel nostro interesse Uscire Decisamente no Ricopriamo al volo Questo petrolio Si Questo carbone Che c'è da questa parte Così Siamo A posto Siamo organizzati Con il carbone Signori Con il carbone Diciamo che ora Siamo messi Abbastanza bene Abbastanza bene Possiamo farci tutte le torce Abbiamo uno stack e 6 Ok Il rame lo prendiamo Il rame l'ho visto Ci ho visto fare il binocolo Signori Il vetro ce l'abbiamo Pgliamo un pochetto Tanto per di Che ce l'abbiamo Dai Anche se non so effettivamente A cosa cazzo L'ora può servire Allora Scendiamo da quel lato Della grotta Della grotta L'abbiamo perso Un pezzo di carbone Sono scemo Lo lascio così Sto mezz'ora a scavarlo E poi lo lascio così Questo che fa Non lo pigli Questo qua magari superficiale Questo qua magari superficiale Dai 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 No È più forte di me Quindi il carbone Va raccolto Va raccolto Allora Non perdiamo tempo però Non perdiamo tempo Piccolo step Cosa possiamo liberarci Questo non ci serve Questa Gaia Non ci serve E l'Andesite Non ci serve nemmeno Perfetto Direi che siamo abbastanza Ci abbiamo abbastanza Spazio nell'inventario Per poter Raccogliere anche la selce Vabbè la selce Ce la teniamo per ora Per ora la selce Ce la teniamo Può tornare sempre utile Allora Tanto rame Che non ci serve Tanto rame E tanto ferro Bello Quello Lì ce lo portiamo a casa Signori Non so qui perché È tutto illuminato Ma intanto questo ferro Dobbiamo recuperarlo per forza Dammi la terra Abbiamo dimenticato Di recuperare un po' di terra Signori Andiamo a portarci a casa Un po' magari Uno stack di terra Per fare questo Per fare i ponti Il problema è che Mi sa che ho scavato male No ok Ho scavato bene Bello così Piglialo tutto Piglialo tutto Questo ferro Importantissimo Dai signori Dai signori Questo Fermarci a cuocerlo Non ci vuole nulla Fermarci a cuocerlo Non ci vuole nulla L'altro dove sta L'altro sta là Ci andiamo di qua E poi riscendiamo Penso che si possa fare Dai 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 Recupera Recupera Dai 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 Rompilo 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 Lo prendiamo poi dopo Non è un problema Rompilo Rompilo Ok Perfetto Prendi questo blocchettino, ci riscendiamo di qua Così ci recuperiamo anche la terra E ok E recuperiamo il ferro E siamo a 13 pezzettini di ferro Buono, buono, buono Andiamo a scendere signori, quel carbone là Allora lasciamo dov'è La grotta continua, sì E questo a noi ci interessa parecchio Buono Buono signori Allora là c'è il rame e non ci serve a nulla Il rame lo lasciamo dov'è C'è dell'oro, c'è del ferro Che è tutto quello che noi stiamo cercando signori Oddio l'oro non Ora come ora Non mi cambia la vita Però, come si dice, è meglio averlo che non averlo No? È sempre un qualcosa di interessante Dai, 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 dai Dai raccogli così, raccogli, raccogli Questo lo pigliamo pure signori Può tornarci utile l'oro L'oro ci può tornare utile per fare le carote d'oro Per fare la mela d'oro Piglia, piglia, non si sa mai Piglia, piglia Anche nel nether ci può servire per fare gli scambi con i piglin Ricordiamoci Che quelli sono assatanati di oro Quindi piglia, piglia Questo non fa Non è di nessuno e non fa male a nessuno Dai Non mancherà nessuno questo oro Dai Allora Allora, 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 allora Di qua non c'è nulla Di qua ci si ferma E di qua invece continua Speriamo di sì Di qua continua, signori miei Di qua si continua in maniera interessante Lapislazzuli Altro ferro, ok Altra terra qui sotto Ok Mi sa che stiamo raggiungendo profondità interessanti Perché sta iniziando a spuntare questa roccia di qua Che non mi ricordo come si chiama Ho sentito uno scheletro Questa che si chiama L'ardese profonda Sì, quindi già siamo a una profondità interessante Signori, allora Io quasi quasi Per questo video Mi fermerei qua Siamo partiti in esplorazione Recuperiamo queste risorse che ci sono qui Sto recuperando questo proprio di terra Perché mi serve per fare le costruzioni, signori Perché sennò Non ci arriviamo a recuperare quella lapislazzuli E quel ferro là sopra Ed è tutto qui Perfetto Recuperiamo questi materiali di qua, signori E per questo video noi ci fermiamo qui Non so di preciso se la nostra grotta continua Abbiamo preso i lapislazzuli Ok, sono i primi che prendiamo E questi ci servono per fare il tavolo degli incantesimi Dai col ferro Dai così col ferro Butta dentro Abbiamo visto altro ferro Ma non mi ricordo dove Forse di là Va bene Scendiamo Scendiamo, scendiamo, scendiamo Scendiamo Capiamo come siamo combinati Sì, sì, signori Di qua si continua a scendere Di qua si continua a scendere Quindi io direi Che per questo video ci fermiamo qui Già siamo A A A A A Un bel po' lungo Un bel po' lungo questo video Quindi direi che per questo video ci fermiamo qui Domani continueremo le esplorazioni Scenderemo sempre più giù E vediamo cosa troveremo Detto questo ragazzi Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suoi genitori e per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao